E a questo punto siamo pronti per ottenere la relazione tecnica, relazione nella quale otteniamo anche le verifiche a seconda della modalità di calcolo che abbiamo impostato. Quindi qua c'è appunto questa relazione con i riepiloghi degli impianti inseriti, abbiamo i risultati e le verifiche dell'involucro sempre se la verifica è richiesta, come vedete, in questo caso non è richiesta con le opzioni che abbiamo impostato in questo momento. Poi qua possiamo andare a vedere i rendimenti, ripeto abbiamo l'unica zona termica che coincide con la centrale, quindi in questo caso è anche molto semplice il discorso. Quindi qua abbiamo i rendimenti, il rendimento di questo progetto e il rendimento minimo, ma questa non è una richiesta, una verifica richiesta, nel senso che se è un nuovo edificio basta che sia cliente di valore di progetto dell'EPI. In realtà qua non rientra il valore di progetto dell'EPI, vedete è un edificio impostato come nuovo, ma in realtà è un vecchio edificio come involucro. Poi abbiamo i consumi e tutto quello che è richiesto appunto da questa relazione tecnica con poi la dichiarazione di rispondenza finale. Infine possiamo ottenere la QE e la CE, sempre allo stesso modo, possiamo ottenere la QE attestato di qualificazione energetica, così come richiesto appunto dalla norma, vedete che abbiamo i grafici dei consumi di questo edificio, la classe energetica proposta, poi qua sotto troviamo appunto la denominazione e il certificato CTI. A CE possiamo andare a vedere l'attestato di certificazione energetica, allo stesso modo, vedete che anche qua troviamo appunto i grafici e l'inquadramento della nostra classe energetica, viene calcolata i limiti delle varie classi e quindi inquadrato qua con il riferimento legislativo, in base al riferimento legislativo abbiamo la classe energetica. Nel caso in cui si vada a impostare un riferimento, non so, invece che nazionale mettiamo Piemonte, andiamo a salvare il risultato, andando nelle varie sezioni troveremo i dati di quella impostazione che abbiamo appunto inserito come riferimento normativo, per quanto riguarda il Piemonte, siccome bisogna inserire poi i dati nel SICE, sistema informativo, ora viene proprio riproposto il certificato secondo quanto richiesto da questa normativa, e i dati in fondo che sono necessari da inserire poi nel sistema informativo SICE della regione Piemonte, quindi qua troviamo appunto tutto questo di epilogo, molto comodo per la compilazione veloce di questi dati.